Clamoroso all'Olimpico, la Lazio vince all'ultimo secondo grazie al gol di testa di Adam Marosic su cross appunto di Guendouzi riuscendo a battere la Juve di Massimiliano Allegri, una Juve sempre più in crisi e sempre peggiore parlando della Lazio, iniziamo a parlare inizialmente della Lazio buona la prima quindi sotto la guida di Igor Tudor alla prima da allenatore della Lazio dopo le dimissioni di Sarri e dopo che nell'ultima giornata prima della sosta aveva allenato Martuscello vice di Sarri che era stato preso diciamo come allenatore solamente per quella stagione per quella giornata scusate in attesa di un nuovo allenatore che poi è arrivato a Tudor e adesso alla prima con Tudor che ha firmato fino alla fine della stagione 2025 da 2024-2025 è arrivata appunto la vittoria della Lazio una Lazio molto molto ben messa in campo sicuramente meglio di prima Castellanos che ha iniziato a titolare e ha fatto una buona partita buona partita anche di Mandas che era iniziato come terzo portiere è diventato secondo ai danni di Sebe che gioca dato l'infortunio grave che ha avuto Provedel e ha fatto un'ottima partita buone parate e anche una rete inviolata veramente molto importante per giocare contro una squadra come la Juve una Lazio quindi secondo me veramente già si vede qualche miglioramento già si vede sia nel possesso palla che l'hanno avuto praticamente solo loro ma contro la Juve diciamo abbastanza normale di Massimiliano Allegri e appunto una maggiore incisività sottoporta la partita sta appunto andando verso lo 0-0 che era ugualmente un buon risultato per la Lazio dato gli ultimi risultati e dato l'avversario ma appunto quel cross di Guindesie quel colpo di testa di Marusic al 94esimo minuto con Marusic che fino a questo momento aveva 0 gol e 0 assist in stagione riesce appunto a sbloccarsi con questo gol veramente fondamentale se la Lazio in questo momento mi sa che ha sorpassato il Napoli non voglio dire cavolate ma mi sa che ha sorpassato il Napoli e quindi sorride finalmente dopo anche l'ultima giornata avevano vinto contro il Frosione quando sono lottato i 3-2 riescono finalmente a fare due vittorie di fila dall'altra parte la Juve è veramente sempre più in calo sempre più disastrosa e non solo si era giocato lo scudetto adesso si sta iniziando a giocare anche la qualificazione alla Champions League 7 punti nelle ultime 9 partite appunto per la squadra di Massimiliano Allegri che è sempre più confusa in mezzo al campo oggi appunto Allegri si è presentato con Moesek in attacco è un cambio di modulo di solito gioco con 3-5-2 e oggi ha giocato con 4-3-3 McKennie che è partito dalla panchina e altri cambiamenti che quanto pare non hanno giovato appunto ai bianconeri 7 punti nelle ultime 9 partite sono veramente veramente pochissimi rimangono a meno 3 dal Milan che deve ancora giocare stasera con la Fiorentina e potrebbero distanziarsi ancora di più e aggiudicarsi sempre più in anticipo l'ultimo posto si può dire quasi l'ultimo posto per la Supercoppa 2024-2025 che si disputerà penso nel prossimo inverno dato che si qualificano le finaliste della Coppa Italia al primo e secondo in campionato e la Juve in questo momento oltre appunto a aversi giocato allo scudetto adesso si gioca anche la qualificazione in Champions League perché si gioca la qualificazione in Champions League? perché il Bologna nel caso dovesse vincere appunto con la Serlenetana lunedì appunto nella giornata di Pasquetta andrebbe a meno 3 dalla Juve e la Roma se dovesse vincere con l'Ice andrebbe a meno 6 prova che appunto le squadre dietro si stanno iniziando ad avvicinare e quindi il distacco tanto ampio che c'era in precedenza adesso non c'è più una squadra veramente a pezzi Allegri ho già detto in un video che dovrebbero cacciarlo assolutamente al termine della stagione perché ormai è quasi praticamente un ex allenatore e i giocatori della Juve non lo seguono più è una squadra completamente disastrata e ovviamente la dirigenza deve fare qualcosa prendere provvedimenti per fare un cambio di rotta abbastanza forte perché se no da qua in avanti da qua nel futuro ci sono peggioramenti per che cosa ne pensate? la pensate come me sulla Juve e la Lazio può ancora sognare un posto in Europa? ditemi la vostra